Mascarpone, questo è un mascarpone fresco che io faccio tutti i giorni con la ricotta fresca seleziono la migliore hojas di menta beh, se puoi spucciare l'odore ma un altro ingrediente importante questo ingrediente mi dà il tocco ora vanno questo non fa qualcosa come si chiama, però è tipo... a tutti i giorni l'Italia io lo teniamo così ci abbiamo 50 anni ricamaro, sbagliato sei vero, pure italiano questo è quello che facciamo qua questo è il grigio di concetto che sei 100 anni di concetto io vedo una scuola la lasciamo amalgamare un poco no da qui è va il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.